Eccoci qua, c'è anche buio qua intorno, so poca luce, proprio l'atmosfera mesta che fa da cornice a questo 2-2, questa beffa è arrivata alla fine di una settimana pessima pessima o negativa insomma perché se è vero che con la Juventus avevamo perso con certe circostanze stasera e mercoledì sono altre due cose, delle tre partite senza vincere credo che questa di stasera con Napoli faccia più male perché nel primo tempo c'è stata una squadra solo in campo ma quando non si fa il terzo gol è solitamente quello che comunque un po' la partita la chiude o la indirizza e poi finisce così. Non so quanto noi siamo rientrati in campo addormentati o quanto il Napoli avesse un po' più di rivalsa, non è cambiato molto perché sì è entrato Romero e è uscito Pulisic perché si è fatto male ma comunque Leao c'era, Giroud c'era, Calabria contro Quara Schellia era sempre lì e è entrato un altro Napoli, è entrato un altro Napoli, c'è stato questo gran gol su punizione con Simeone che si sposta proprio, si vede nell'attimo in cui calcia, quindi questo per dire che le cose andavano come andavano nel primo tempo, cioè non è che è successo qualcosa di particolare nel secondo per cui il Napoli è venuto fuori, semplicemente il Napoli ha iniziato con un altro piglio e noi improvvisamente abbiamo smesso di giocare, di palleggiare, di tenere palla, cioè purtroppo a volte il calcio è anche così, adesso ovviamente si scateneranno chiaramente i commenti ma io questa volta non partecipo come ho fatto domenica e mercoledì dove mi sono toccate 4-5 dirette in una settimana in cui ne ho lette di ogni ma non di ogni di critica proprio di cattiverie, quindi figurati adesso ma io preferisco sempre l'analisi equilibrata e lucida, siamo andati alla fine con l'ultima occasione con Calabria, Romero, Musa e Jovic, gli ultimi 4 rimasti in area perché Giroud e Leao non c'erano e onestamente anche qui devo dire questa volta anche io sono un po' perplesso perché comunque Giroud un quarto d'ora dalla fine correva ancora dietro agli avversari, un'energia inesauribile, io non so 38 anni come fa, Leao può bastare una giocata perché ti accenda la partita e ti potessi far fare il 3-2 e invece non sono stati tolti prima, però è anche vero che comunque nel secondo tempo noi non abbiamo proprio giocato e Leao e Giroud erano in campo, per cui purtroppo questo è da spiegare, non tanto poi i cambi dopo quanto il fatto che non abbiamo proprio giocato, si è staccata la spina, si è completamente staccata la spina e nel calcio spesso capita che quando fai dei primi tempi così e non chiudi le partite nel secondo tempo arriva la punizione, forse sicuramente nell'intervallo siamo andati con tanti rimpianti all'intervallo perché dovevamo fare il terzo gol, dovevamo farne di più chiudere la partita già nel primo tempo, alla fine probabilmente i rimpianti ce li ha il Napoli perché ha avuto anche l'ultima occasione per fare il 3-2, era una settimana difficile, lo sapevamo con tre partite impegnative che non sono andate bene, però siamo a fine ottobre, ci vorrebbe sempre un po' di equilibrio dei giudizi che naturalmente neanche stavolta ci sarà e quindi andiamo avanti così, adesso abbiamo l'Udinese, il Lecce e poi la Pausa per cui credo che abbiamo due partite insomma che sono l'ideale un attimo per riprenderci da tre partite ad alti ritmi, si è fatto male Calulu, Pellegrino non è entrato bene però è la prima partita che fa, diamogli tempo, sicuramente non è entrato per nulla bene perché non ha fatto bene niente, probabilmente Tiov che viene sempre criticato l'anno scorso entrava meglio, non come Pellegrino stasera perché da subentrato Tiov l'anno scorso se vi ricordate ha fatto tante buone partite quindi evidentemente c'entra anche come uno entra ma è anche vero che era la prima partita per cui insomma che vi vogliamo dire, purtroppo non è entrato bene. Sulla questione ci sono dei problemi muscolari, Calulu ha avuto una contusione mentre invece Pulisic credo fosse un problema muscolare però sugli infortuni come ho detto cento volte questa settimana gli infortuni li hanno tutti, è inutile predicare di volere De Zerbi al posto di Pioli quando De Zerbi è messo uguale al Brighton, ha mezza squadra fuori, ha marcia che si è rotto un crociato e ha finito la stagione, Stupignano è fuori e tanti altri giocatori per cui questo per dire che se si deve dire che si sbaglia la preparazione atletica bisogna avere delle prove in mano, bisogna andare a Milano a vedere gli allenamenti e soprattutto bisogna essere esperti in preparazione fisica cosa che nessuno di noi è, per cui invito anche un attimo alla calma, gli infortuni ci sono, ce ne sono sempre, ce ne sono per tutti, li aveva la Juventus quando è venuto a giocare con noi, li abbiamo noi, li hanno tante altre squadre anche all'estero per cui una spiegazione non so darmi, la vado sugli infortuni perché so già qual è l'argomento, perché poi dopo tampono subito gli argomenti. Annalisi finita, andiamo avanti, adesso c'è il Lecce, resta un po' di tanta delusione questa sera perché comunque la partita era strachiusa nel primo tempo e non si può non chiudere queste partite. L'ultimo appunto è che legato a questo, se prendiamo il secondo tempo di Dortmund, la partita in casa con Newcastle e il primo tempo di oggi creiamo tantissimo e concretizziamo meno rispetto a quanto creiamo. Mi ricordo un po' il Milan di Zaccheroni nel 98-99 che poi è finita bene con varie vicissitudini, ma era comunque un Milan che creava tantissime occasioni da gol, ma ne sprecava tante. Vi ricordate Birov quanti gol si mangiava? Qui è un po' uguale. Il problema del gol comunque, dato che la gente ha sfaccassato l'anima sul gol, sono arrivati due gol di Giroud stasera, non segnava dal primo settembre, ha segnato, per cui non è che non facciamo gol, il problema è che creiamo tante occasioni, ma ne concretizziamo meno di quelle che dovremmo. Come al solito stiamo calmi e andiamo avanti.